E siamo al calcio, parliamo del Pescara che continua la preparazione in vista della importantissima sfida all'Adriatico con il Lecce in programma sabato con inizio alle 14, le notizie della seduta pomeridiana di oggi, differenziato per Sorensen, Riccardi continua il lavoro personalizzato per il portiere del Favero, dunque vasta scelta per Grossadonia che confermerà il 3-5-2 previsto il rientro di Balzano dopo la squalifica a fargli spazio. Bellanova a centrocampo sarà confermato il trio Busellato-Dessera-Tabanelli, quest'ultimo ex della partita in attacco pronto al debutto Giannetti, potrebbe giocare anche Odgar, sarebbero due prime punte, altrimenti Giannetti alle sue spalle Cristian Galano. Per quanto riguarda invece il Lecce è stato a riposo, Nikolov a causa di uno stato influenzale hanno svolto un lavoro personalizzato, Dermacu, Pablo, Rodriguez, Anderson, Listovski, Calderoni e Monterisi. Taxidis ha ripreso a lavorare con il gruppo 4-3-1-2 il sistema di gioco che sarà disegnato dal tecnico Eugenio Corini, ricordiamo Lecce settimo in classifica, Anderson probabilmente nel ruolo di Mezzala, Mancosu tra le linee alle spalle di Koda e Stepinski forse preferito al giovanissimo Pablo Rodriguez, classe 2001 prelevato dalla cantera del Real Madrid.